Lunghe file alle casse al telefono, cittadini spesso inferociti che se la prendono con i poveri operatori agli sportelli che non hanno responsabilità. La situazione ai CUP della Asla 1 è insostenibile e la problematica riguarda non solo l'Aquila ma anche Avezzano e Sulmona. Nell'ultimo anno le segnalazioni dell'utenza sono state innumerevoli ma c'è da dire che il problema è atavico. La Will ora ci mette il carico da 90 attraverso la referente Teresa Circi. I sistemi operativi spesso non funzionano, la linea si interrompe. Da tempo i sindacati chiedono alla direzione un cambio di passo in tal senso. Sono disservizi gravi del resto che bloccano spesso attività che dovrebbero essere invece normali. La Circi e Andrea De Amicis, come Will, parlano di una Asla praticamente ferma che ha interruzioni continue. Il centro unico di prenotazione è invece un servizio essenziale per l'utenza, stanca ormai di sopportare tutto questo. Gli operatori pure però sono esausti. Se le lunghe file sono un incubo, lo è pure tentare di prenotare una visita a telefono, ore e ore di attesa, senza arrivare a capo di nulla. I sindacati, al manager attuale, chiedono da tempo di risolvere gravi problemi connessi a prenotazione e derogazione dei servizi. Nessuno però, anche in passato, ha mai dato delle risposte. I lavoratori sono lasciati allo sbando, spesso preda della rabbia dell'utenza, che vorrebbe fare le prenotazioni senza attendere ore e ore. Risolvere il problema per la Will sarebbe questione di civiltà. Ma il CUP, in ospedale, è solo la punta di un iceberg, almeno all'Aquila, dove per un normale controllo al seno e nei, per fare degli esempi, si è costretti ad attendere anche due anni, se va bene, alla faccia della tanto sbandierata prevenzione. Ci sono macchine ferme per questioni burocratiche o tecnologie non aggiornate che non si possono più usare. Per i sindacati, insomma, ha una sanità allo sbando e non solo per loro. Si lamentano medici, utenti e tutti gli operatori. Grazie.